Eh ragazzi è un po' la seconda che lasciamo lì, è un po' la seconda partita che lasciamo lì, dominio anche a Dortmund nel secondo tempo ma non la buttiamo dentro, non la buttiamo dentro anche quando si spalancano i portoni. Il primo tempo è stato equilibrato, prima parte equilibrata, poi alcuni momenti Dortmund, alcuni momenti noi, primo tempo equilibrato, secondo tempo nettamente meglio noi, potevamo far gol anche nel primo tempo, nel primo tempo poteva farlo anche il Dortmund. Poi insomma noi abbiamo giocato questa partita molto rimaneggiati, è piaciuto di più il Milan quando ha messo Adli in mezzo e Reinders a sinistra, abbiamo avuto più margine offensivo però abbiamo perso qualche meccanismo dietro. 2-0-0, due rimpianti, potevamo tranquillamente buttandola dentro fare sei punti, sei punti erano completamente alla nostra portata contro il Newcastle che abbattuto il PSG, quindi il Newcastle che noi abbiamo dominato a San Siro è una squadra forte. E il Borussia Dortmund che agli stessi punti del Bayern Monaco in Bundesliga nel secondo tempo l'abbiamo fatto ripetutamente tremare. La squadra si è dimostrata all'altezza, la squadra ha fatto molta fatica stasera, adesso abbiamo un'altra partita tremenda, Bolgia-Genova, però stasera onore delle armi ai ragazzi, è chiaro che rimane la rabbia per non averla buttata dentro, chiaro. Abbiamo sbagliato tante 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 occasioni con tutti, però i ragazzi si sono dannati l'anima, si sono battuti, hanno giocato tutti dando tutto. Su questo non possiamo dire niente, insomma il muro giallo, abbiamo giocato una partita ragazzi che quando abbiamo iniziato a fare la Champions League, una partita come quella di stasera nel 2021, a metà 2021 per noi era impensabile. La nostra crescita è testimoniata da queste partite, siamo qui a cospargerci il capo di cenere per non aver vinto in casa del Borussia Dortmund, che resta una squadra importante, sono convinto che adesso a Newcastle sarà dura, ma in casa col Borussia Dortmund sono punti che possiamo prendere. Certo, certo dobbiamo fare gol, perché evidentemente di lì non si scappa, su alcuni palloni siamo troppo belli, noi cerchiamo sempre la palla bella al momento del tiro e non la palla cattiva, noi la palla cerchiamo sempre di piazzarla e non di picchiarla, e questo fa tutta la differenza del mondo in quelle che dovevano essere due vittorie. Il titolo due punti persi è un complimento ai ragazzi, perché meritavano la vittoria oggi per il loro impegno, per come hanno coperto il campo, per come hanno sfangato tutta la partita, fase offensiva, fase difensiva, Borussia Dortmund è sospinto da un pubblico pazzesco, adesso il girone è particolare, Newcastle ha quattro punti, noi siamo terzi a due punti, il Parini ha tre, il Parini adesso lo avremo in casa, è chiaro che adesso il girone non ha una vera dominatrice, però noi potevamo essere a sei, e se noi fossimo stati a sei questo girone l'avremmo già bello indirizzato, invece lo dobbiamo ancora soffrire, patire, provare a rimettere a posto da dietro. Certo, oggi abbiamo giocato buona parte di gara con un centrocampo tutto rimaneggiato, perché dove doveva esserci Krunic c'era Reinders, dove doveva esserci Reinders c'era Pobega, dove doveva esserci Loftus c'era Musa, poi Musa ha fatto una grande partita, Musa ha giocato per 70 minuti da migliori in campo, poi ha sentito un po' la fatica nel finale, è andato veramente in debito nelle gambe e nei polmoni. È chiaro che giocando rimaneggiati, quando si è infortunato Loftus contro la Lazio, ho subito pensato alla parita di Dortmund. È chiaro che c'è mancato qualcosa, in termini di guizzo, in termini di spunto. Devo dire che Rafa Leao alla fine non ha fatto gol, non ha fatto assi decisivi, però ha fatto tante cose, ha corso tanto, ha finito che lui è sfinito. I nostri ragazzi non c'è niente da dirgli, l'unica cosa che gli possiamo dire ragazzi è perché non facciamo gol, però non fare gol fa parte anche un po' dei momenti, dei capricci di questo sport, delle inerzie che ci portiamo dietro. Lo 0-0 con Newcastle era un po' l'uscita dall'incubo, della bolla del derby perso malissimo. Questa invece è una partita che doveva confermare il nostro momento e sul piano della prestazione l'ha confermata. È chiaro che se commentiamo la prestazione siamo contenti, se commentiamo il risultato non siamo contenti, insomma rischiamo di dirci cose banali. Dal punto di vista dei singoli, essenziali tutti i difensori, Mignano ha fatto una grande parata su Ben Sebaini nel primo tempo e poi poco altro, tutti i tiri centrali come la Lazio, a centrocampo devo dire Tigi, avete visto come ha cambiato marcia quando ha potuto giocare libero da compiti di centrale basso, Tigi quando cambia passo è irraggiungibile, quella palla porta vuota doveva segnarla, ma ne abbiamo avuto un'altra nel corso della partita con Teo a fine primo tempo e anche Teo l'ha messa a fil di palo. Ragazzi, è chiaro che possiamo recriminare su tanti palloni che abbiamo lasciato lì, tanti tanti tanti, quello di Giruone al primo tempo, nell'area piccola anche se forse c'era Mani, tante cose, tante cose, tanti palloni, tante situazioni, però ragazzi oggi era importante tenere botte, è chiaro che il pareggio in trasferta è un po' più pesante del pareggio in casa, però sempre di pareggio si tratta, noi dovremo adesso per qualificarci dovremo fare secondo me una grande partita o a Parigio o in Inilterra, dobbiamo fare una partita simile a quella che facciamo nel 2021 al Vanda Metropolitano con l'Atletico, avremo tempo di pensarci, dovremo anche recuperare i giocatori, a me è piaciuta comunque la personalità della squadra, il Borussia è partito forte, ha cercato di sfruttare la bolgia, però devo dire che siamo stati attenti, Leao ha giocato un'ottima partita, Giru non era una partita semplice, di là Pulisic ha contribuito, Pulisic ha giocato nella squadra, ha lottato, Ecco, Okafor non è riuscito a incidere quando è entrato, Semi Ciuquezza è vero che ha perso una palla, ma ha salvato anche su un'incursione loro al limite dell'area la grande, quindi alla fine Semi è da assolvere. Pobega ha fatto il suo, ma ragazzi è chiaro che oggi abbiamo fatto anche alcune giocate belle, soprattutto con Leao, alcune giocate tecniche belle, però la giocata bella vera da fare gol, lo dice il risultato stesso, non l'abbiamo centrata, 0-0, altro clean sheet, pensare che questa squadra ha preso 5 gol in una sera sola, poi nelle 4 partite successive abbiamo preso solo un gol su una palla mezza e mezza, che poi Lufungo è stato bravo a mettere sotto la traversa, però insomma il Milan ha preso 2 gol in 3 partite e poi un gol in 4 partite, nel mezzo quella serata lì, però lo dico dal punto di vista statistico, non per rimangarla o per ritirarla fuori. Penso che dal punto di vista della personalità della tenuta del campo ci siamo stati stasera, è chiaro che avremmo dovuto vincerla, però nulla è compromesso, la partita è stata aperta tutto il tempo, sai quando non la butti dentro è importante anche non prendere gol, girone aperto, girone aperto e ci siamo anche noi, ragazzi questa è la morale di fine commento, a domani.